Sabato 11 aprile 2015, una data storica per la mobilità sostenibile targata Alto Adige Su Tirol. Per le vie di Bolzano abbiamo intercettato la prima bici ad idrogeno, il prototipo a profonde radici bolzanine. È uscito infatti dalle officine della TC Mobility, nota azienda della Cavologo Ultrategino che ha inventato e che produce il mitico Frisbee, electric bike di grande successo. La TC Mobility ha realizzato su commissione un prototipo di Frisbee scubi in versione a idrogeno allo scopo di renderne possibile l'utilizzo in quattro modalità diverse. Ricarica degli accumulatori a 220 volt alla rete elettrica, ricarica a 12 volt a cendi sigari dell'auto, ricarica a idrogeno a mezzo di distributori specifici e a pedali come una normale bicicletta. Sì, abbiamo visto che la città di Bolzano è la città dell'idrogeno abbiamo pensato di costruire un microveicolo che funzioni anch'esso ad idrogeno. Abbiamo preso un po' di contatti, abbiamo visto che c'è la possibilità sostanzialmente di approvvigionarsi e quindi abbiamo deciso insieme alla CTS di fare un prodotto specifico a idrogeno. Il veicolo è concepito in modo da utilizzare l'idrogeno per sostanzialmente ricaricare la batteria di bordo, quindi è una sorta di generatore che invece di essere un generatore come potrebbe essere a benzina è un generatore a idrogeno, quindi praticamente ha inquinamento zero e questa è la caratteristica di questo veicolo, cioè non viene utilizzato in diretta l'idrogeno ma viene utilizzato costantemente per ricaricare la batteria. Questo dovrebbe, e qui siamo in una fase adesso logicamente di test, dovrebbe allungare la vita della batteria diciamo originale e in più con la velocità di ricarica non ci sarebbe più il problema di rimanere con batterie scariche e quindi avremo dei vantaggi da questo punto di vista. Il prototipo collaudato per le vie di Bolzano è partito per Hannover per essere presentato in anteprima alla fiera di settore a cura della CTS Energy di Udine, ovvero l'azienda che ha commissionato alla TC Mobility di Bolzano la realizzazione della bici a idrogeno.